Un caro saluto da Mario Giuliaci, il tempo previsto per giovedì 18 maggio. Un'area di bassa pressione estesa dalla Spagna al centro-sud dell'Italia seguita a richiamare aria più fresca da Balcani, al di sopra della quale scorrono venti di scirocco umidi e piovosi. Pioggia al mattino sul Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e Puglia, rovesce temporale nel pomeriggio su Alpi, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Lucania, Puglia e Isole Maggiore. Nella sera pioggia solo sulla Sardegna, venti freschi da Balcani, massime inferiore alla media di 5-7 gradi addirittura, tant'è che le massime in questa giornata saranno intorno a 15-17 gradi tra Marche, Abruzzo e Molise e 18-22 gradi sul resto dell'Italia.